Vai. Venerdì 24 ottobre, buonasera e bentrovati dal consueto appuntamento con l'informazione, rassegna stampa in edizione pomeridiana in studio per voi Alessandro Entrocaso e Daniele Silvestri. E allora inizieremo questa rassegna stampa dando un'occhiata ai principali titoli sui nostri quotidiani nazionali e poi successivamente parleremo anche di sport nazionale e locale. Quindi cominciamo con la lettura dei titoli dalle prime pagine, da Repubblica l'apertura è dedicata all'Unione Europea che accusa l'Italia, ha violato il patto, Renzi non ci sta, lite con Barroso. Il premier dice mancano due miliardi, li metto domani. Duello sulla lettera resa pubblica, Napolitano intanto firma la manovra. E l'ostilità tra Renzi e Barroso è esplosa dopo la pubblicazione della lettera della commissione dell'UE sulla manovra italiana. Il retroscena, non ci sono vincoli, la spunteremo, la tensione si scioglie davanti a tutti i leader europei. Sono le sei del pomeriggio, Renzi lascia il suo posto al tavolo del Consiglio europeo e si avvicina prima a Juncker e poi a Barroso. E ancora dal tesoro si apre la trincea dei no. Le dimissioni sono state presentate a più riprese e sono state respinte. Roberto Codogno, un master di finanza a New York, un passato in Bank of America a Londra, il presente al ministero del tesoro, non vorrebbe più restare dove. Dal 2006 è dirigente generale di Via 20 Settembre, capo della programmazione economica. E a centropagina troviamo Francesco contro l'ergastolo, il Papa parla di una pena di morte nascosta e quindi si oppone a questo provvedimento che ben conosciamo. E ancora la polemica con le coppie gay. Berlusconi sostiene, Renzi dice sì, al modello tedesco bisogna crescere. E troviamo poi a centropagina la vera Maddalena, svelato il mistero di Caravaggio, trovato l'originale dell'ultimo quadro. E vedete anche l'immagine che propone Repubblica. E ancora Is, al lato il lupo solitario che fa paura all'Occidente. Questo l'approfondimento sulla spalla di Repubblica dopo l'attentato in Canada. Guarda, vediamo anche i ragazzi dei tweet anti-narcos a piedi pagina. Per un tweet si muore, per un tweet si viene condannati a morte, per un tweet si scompare per sempre nel Messico. dove 43 studenti che manifestavano contro i clan sono incredibilmente scomparsi e probabilmente già stati trucidati da quasi un mese. Per un tweet si muore, perché con un tweet si può mettere in crisi un'organizzazione criminale strutturata. E troviamo poi il piano a lato con l'idea di cancellare dai centri storici le finte case popolari con il fisco che ridisegna le rendite catastali. Andiamo poi da Repubblica al tempo. Ecco i 211 lupi solitari che spaventano l'Italia. Questo il titolo, l'antiterrorismo, un pericolo di emulazione concreto dopo l'attacco a Ottawa in Canada, da Milano a Palermo. Gli jihadisti capaci di azioni individuali sono stati appunto identificati. Troviamo Emilio Fede a centropagina con le foto di catto coi trans. Dietro ci sono i servizi e la sua risposta. Una vicenda che si aggiorna ora dopo ora. Successivamente il tempo affronta anche la questione dell'unione gay alla tedesca. Con l'ok di Berlusconi, sì anche allo Ius Soli. Ha cambiato idea il Cavaliere che solo qualche anno fa si era invece opposto a queste due aperture. I richiami sulla legge di stabilità ancora con l'Europa che bacchetta Renzi. È il Premier che vuole rivelare i conti in tutta risposta. Niente trasferimento in ospedale, il vegetale provenzano dovrà morire in carcere. E ancora all'Umberto I sequestrate sei camere operatorie da urologia e terapia intensiva. Poi il viaggio all'inferno sul bus di notte dopo i sassi agli autisti. Una notte nei quartieri a rischio con il reportage del tempo dove si raccontano aggressioni, risse sui bus, smercio di droga e prostituzione ai capolinea. A Roma dopo il tramonto rischi che aumentano. Ancora si approfondisce la vicenda di cronaca di ieri con Gimmi Ghione insultato e pestato alla stazione. 300 cronisti in realtà sono stati picchiati da gennaio. Striscia nel frattempo ha fatto arrestare gli aggressori di questo gesto stupido. E sul messaggero Renzi e l'Unione Europea con la bacchettata dell'Unione ai danni del nostro paese. Renzi e Renzi che si lancia in questa battaglia. L'Italia deve chiarire gli obiettivi mancati lite sulla divulgazione del testo. Il Premier dice basta ai documenti segreti. Se servono due miliardi posso metterli anche domani. E ancora troviamo la manovra con la scure sui sindacati e l'ordine pubblico. I patronati hanno subito una stangata. E poi la Le Pen in questa intervista afferma che cambia nome al partito e porto Parigi lontano dall'Unione Europea. L'assistente di Marine Le Pen avverte a un po' di raffreddore. Ma la presidente del Front National sembra in gran forma nell'elegante tailleur blu. E poi il Papa che vuole abolire l'ergastolo con il relativo dibattito annesso approfondito sulla spalla da Lucetta Scaraffia. E ancora la svolta di Berlusconi sì alle unioni gay e al premio di lista. L'intervista al leader di Forza Italia. Il via libera anche alla cittadinanza per i bambini stranieri. E poi l'analisi sui diritti civili. Silvio torna al 1994. La fotonotizia dal Canada diventa un eroe. La gente che ha impedito la strage. Lo vedete in questo ritaglio in fotografia. L'attentatore era solo un cane sciolto fanatico dell'Isis. Lo vedete in questa immagine con tanto di fucile in mano. Si parla poi di sordi. Aperto il testamento andrà tutto alla fondazione. Questo è il verdetto al momento. Sul Corriere della Sera un duro scontro tra Renzi e Barroso. Il titolo principale come un po' tra l'altro troviamo sui vari quotidiani. E poi la lettera di richiamo sulla manovra con il Premier che la rende pubblica. E Bruxelles che afferma era riservata. L'Italia deve rispondere quindi entro 24 ore. Il Presidente del Consiglio vuole un'unione più trasparente. Meno documenti segreti. Questa è la sua opinione. Un ex giubba rossa eroe. Il Canada cerca di scuotersi. Il terrorista agito da solo. E ancora il bonus bebè. Con i fondi dimezzati. Più controlli sui conti bancari. Il disegno di legge e ristabilità ricevuta la bollinatura della ragioneria dello Stato. E l'autorizzazione del Presidente della Repubblica. È stato depositato alla Camera dove inizierà il suo percorso parlamentare la prossima settimana. Il bonus bebè è stato rimodulato con uno stanziamento ridotto a 202 milioni di euro per il 2015. In modo da venire incontro alle osservazioni della ragioneria. Più controlli sull'Isee. L'indicatore della situazione economica utilizzato per l'accesso ai servizi come gli asili nido. Sui conti correnti non ci si fiderà più dell'autocertificazione ma del valore medio di giacenza anno. Inoltre importanti anche le novità come abbiamo già visto sulle nozze gay e sullo Ius Soli. Con l'apertura di Berlusconi alla proposta del PD. E poi la denuncia del Papa abolire l'ergastolo. Moratti a piedi pagina è molto più nero che azzurro. Il presidente onorario si dimette in polemica con Toir. Lite sulle finanze della società. Queste sembrerebbero essere le motivazioni alla base della sua decisione. E chiudiamo con la stampa di Torino. Con la manovra che va verso il sì dell'Unione Europea. E una spending review più leggera ma previste entrate aggiuntive per 5 miliardi. Con la commissione che ha chiesto chiarimenti. E con la mediazione decisiva di Juncker. Un'altra retroscena dalla Leopolda, un'altra Italia. La Boschi, il ministro, parla di un confronto su più temi. Tante assenze polemiche dal PD. E poi Berlusconi che ritorna e dice rivincerò le elezioni. E troviamo inoltre la fotonotizia a centropagina della polemica tra Madonna e Suor Cristina. Sorelle per la vita. La pop star si schiera in realtà con la religiosa criticata dai Vescovi per aver interpretato una sua cover. E quindi la polemica è stata spenta dalla stessa Madonna che invece si è dimostrata vicina a Suor Cristina. Questi i titoli sostanzialmente della giornata a livello nazionale. Tra pochissimo vedremo invece le prime pagine dei quotidiani locali. E poi passeremo allo sport. Un breve break.